Scusatemi! Eccola! Fermate quella ragazzina! Fermo! Non fuggire! No! No! Forse dovrei spiegare. Mi chiamo Enola Holmes. Ho avviato un'agenzia investigativa. Quanti anni hai? Sei una ragazzina. Dimmi. Sì? Tuo fratello è libero? Mio fratello. Mentre io non ho neanche un caso, Sherlock è tormentato dall'ultimo che sta seguendo. Voi trovate persone scomparse? Sì. Mia sorella. È scomparso una settimana fa. Finalmente sarei stata una detective professionista. Degna del cognome Holmes. Non oso chiedertelo. No! È una detective? Oh, ce l'ho un'altra. Cerco di salvare la vita di una ragazza. Noi che possiamo fare? Noi? Si è voltato a guardare. Oh, bene. Non l'ha fatto. Sei coinvolta in cose pericolose? Buon pomeriggio. Non si può controllare, no? La Holmes. È una forza della natura. Ah! Tu? Tu! Perché sei qui? È il mio caso o il tuo? Di entrambi. Sembra che i casi siano collegati. Andiamo? Che. Che... Che. 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 Grazie a tutti